La Galleria degli Artisti di Legro si arricchisce di una nuova opera. Fabrizio Morea, un'opera davvero particolare, dedicata a uno dei cinema delle pellicole più belle che ci sono qui sulla Galleria degli Artisti e sui muri dipinti di Legro. Stiamo completando la trilogia dei film Pane, Amore, Gelosia, Pane, Amore, Fantasia e questo è appunto Pane, Amore e l'ultimo della serie. Poi ci sarà quello di Simona Munaro che verrà realizzato in Piazza della Chiesa ma oggi abbiamo qui la fortuna di avere il professor Solari, Ernesto Solari che da Como casualmente lo scorso anno scoprì Legro e il paese dipinto e qui ci sta donando quest'opera e lo abbiamo ringraziato perché non sapevamo come fare per completare il ciclo di queste tre pellicole. Diciamo che oggi è un momento che ci introduce a quello che sarà poi l'evento finale delle celebrazioni chiamiamolo così pomposamente per i vent'anni ormai superati di due perché abbiamo cominciato vent'anni fa, siamo nel 2019 e quindi adesso abbiamo la fortuna di completare tutto quanto il lavoro fatto con altre opere che verranno organizzate e realizzate e soprattutto inaugurate tra il 4 e il 6 di ottobre.